Funerale interreligioso per 10 extracomunitari morti nel mare di Lampedusa, l'iniziativa dello sportello per gli immigrati e di diverse associazioni. Sì, sportello per gli immigrati ad Arci, più una serie di persone della società civile senza sigle che ci hanno chiesto di organizzare qualcosa per commemorare queste vittime che sono arrivate a Caltanissetta in silenzio. Si tratta di un momento particolare perché ci saranno diversi riti. Sì, abbiamo previsto tre riti, non sapendo l'identità e quindi la religione delle persone morte, abbiamo previsto il rito cattolico, il rito cristiano ortodosso che è diffuso in Eritrea e il rito musulmano nel caso, si parlava di un barca a prevalenza Eritrea e Somala, quindi per quello questi tre riti. Siamo stati in contatto fino a stamattina con il portavoce della comunità islamica regionale che nel primo momento aveva detto che sarebbe venuto lui a celebrare la cerimonia per il lato musulmano, poi invece stamattina ci ha detto che lui non può venire, che verrà l'imam di Caltanissetta e una delegazione regionale, più il prete ortodosso e il prete cattolico. E' un momento particolare di riflessione? Sì, di riflessione, è anche un momento particolare perché il rito interreligioso è particolare, quindi in un momento di lutto le religioni che si avvicinano tra di loro per commemorare dei morti. Il cimitero alle 16 di venerdì tutti potranno partecipare? Sì, certo, anzi noi speriamo che la partecipazione sia ricca e variegata, sia di persone italiane che di persone straniere che sono a Caltanissetta e che magari vorranno dare un ultimo saluto ai loro connazionali, probabilmente. Non ci sono nomi sulle bare ma numeri? Sì, abbiamo dei numeri perché non è stata fatta alcuna identificazione ed è anche un po' triste vedere queste bare con i numeri. Abbiamo previsto anche, in collaborazione questo con l'ufficio tecnico del comune, di fare apporre delle scritte sulle lapidi perché solo il numero è una cosa estremamente triste, quindi delle scritte simboliche e questa è una cosa che per faremo il 3 novembre che ricorre il mese dalla tragedia.